Mangierà un piatto di spaghetti sospeso sul vuoto a 40 metri dal suolo. Preghiamo di osservare il massimo silenzio durante tutto il prossimo esercizio, perché anche la più piccola distrazione potrebbe essere fatale. Signore e signori, ecco a voi il matto, il suo esercizio unico al mondo. Ehi, come si sta lassù? Si sta bene? Si, ma un po' freschetto, anzi mi è venuto un appetito che sembrano due appetiti. Ma il silenzio è vento, ho portato via anche sto bagliolo. Ma come? Vi mettete a tavola senza dirci nemmeno se vogliamo favorire? E' un posto, se qualcuno vuol venire, sta comodi. E' un posto, se qualcuno vuol venire, sta comodi. Grazie a tutti.